Musica Dunque, è il momento di tornare a Ciampa e fare capire a Briggs che non si scherza con noi Anche perché se volesse fare a botte a questo giro siamo più forti noi Ho una spada che ti fa un culo così e ho anche una persona in più nella squadra Eccoci qua, sto cercando quel coglione di Briggs Dov'è? Forse era dove c'era sua nonna Ehi, simpaticone Ehi, tu sei Felix Cosa? Davvero? È Felix? Certo che sei proprio insistente Briggs, scappa! Felix è qui per prenderti Cosa? Felix? Qui? Cazzo Oh no, è davvero lui, devo andare via da qui Cretino di merda, ti spacco la faccia Oh, ti prego, non farci del male Va bene, via a vedere, mi arrendo Tornerò dall'altra, ma solo con Briggs Perché sei così destinato? Smettere di inseguirci E in realtà non ho nulla contro di voi Non questa volta Sappiate solo che siete degli stronzetti E qua dentro? Sei qui? Oh, andiamo, non sto facendo niente Lasciami in pace Fermo lì Quindi sei venuto, Felix? Non crede che te la farò passare liscia stavolta Questo ragazzo è lui? Il guerriero di cui mi hai detto? Nonna, ti ho detto che a vederlo non sembra molto Ma... non mi hai ascoltato? Ciò che mi hai detto che si chiama Felix E che è un possente guerriero Non sembra il tipo di persona interessata A rubare i nostri gioielli, però Ma non, non è questo il punto Se non l'elimini ora mi porterà via E non mi vedrai mai più Oh, non mi sembra un ragazzo Che farebbe una cosa simile Ah, se mi porta via il povero Eolo Sarà triste Cosa mi dici di questo, eh? Ah, questo non va bene Sai che non sopporto che tocchino il mio nipotino Il tuo bisnipotino Non capisco perché devo essere io e aiutarti Ma non sopporto che Eolo sia triste Nonna, per favore Ah, ah, va bene Non sai a cosa vai incontro È meglio che tu vada via No Sei ostinato, eh? Va bene Se questo è ciò che vuoi Questo è ciò che avrai Preparati Cuore della terra Fiamme della forgia Dademi il potere Che cos'è sei? Un avimadra Hmm Molto bello In ogni caso Allora, volessimo sfruttare megera Dovremmo perdere uno e uno Non mi va al momento Quindi Tuffo morto E andiamo Dei colpi Pesanti 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 Ti faccio un culo grosso così adesso Vedi Aumentiamo anche la difesa perché Non si sa mai Penso di essere Ben oltre il livello Però non si sa mai No, in realtà no Sai che potrebbe essere lui Che è al mio livello Per il semplice fatto che per avere Scoppio Abbiamo dovuto fare tutte le altre zone precedenti Quindi In teoria Questa è una zona Bene o male Esatto 186 Bene o male a livello con noi Aia Ha fatto male questo Questo vuol dire Che dobbiamo menarlo Forte, forte, forte Però Dobbiamo anche curarci Bene, bene, bene E questo Ci ha fatto tutto sto male Anche avendo la resistenza aumentata 270 È un po' poco Mi sa che faccio prima A menarlo direttamente Ah, pure Grande Va bene Si va a botte allora Si va a botte Proviamo a ridurgli la difesa E tu ora Vai ad attacco Ok Perfetto Ah, non ha funzionato Che sfiga Mettendo persino Sara In pericolo Ok Si è pure aumentato la difesa Fantastico Facciamo così Continuiamo ad attaccare Nella speranza Di buttargli fuori un Meghido E tu Giusto per aumentarti Va di Mercurio Che così Riaumentiamo di nuovo Sara Che Non deve stare mai sotto nessuno Minchia 200 Sai che forse Beh, effettivamente aveva senso Un attacco d'acqua Forse forte Aumentiamo questo E proviamo Con acquazzone Vediamo quanto gli facciamo Vediamo quanto fa 88 Beh, non mi aspettavo effettivamente molto Devo dire che effettivamente È stata colpa anche mia Brava Sara Dunque Dunque, dunque, dunque No Proviamo E vediamo Se riusciamo a tirare giù Qualche bel colpo 187 Questo è un danno Meghido Quanto gli facciamo? 600 500 774 Boia Allora Stiamo per mettere Sara In pericolo Così Lo so Lo so benissimo Però Dobbiamo fare un po' di danno Accresce la forza Dai E tu Siccome sei l'ultimo In teoria Già potrei farti fare Nereide Però Voglio aspettare Raspettiamo ancora un turno Magari Forse avrei dovuto far curare Pierce Sai Ah Andata La salamandra Hai battuto la mia salamandra Pensavo che fosse impossibile Come è potuto accadere? Tu sei forte ragazzo Sei forte Come hai fatto? Cosa Cosa sei tu? Nonna Cos'hai fatto? Pensavo che mi avresti protetto Come che ho fatto? Ho fatto tutto quello che potevo Nonna Mi porterà via È cattivo Devi fare qualcosa Mi dispiace Briggs Ma dovrei affrontarlo da solo Cosa? Mi hai sentito? Non posso sempre occuparmi io di te Cavatelo da solo Coglione Ma Ma nonna Guardalo Hai visto cosa ha fatto? Lo so caro Ma non posso aiutarti Non vuoi che lui ti porti via Vero? Ma È il povero Eolo Ah va bene Va bene Scusate ma Deve esserci stato un malinteso Fraintendimento Però vabbè Già Non mi piace stare a sentire un pirata Che ci chiama i cattivi Pirata? Il mio Briggs Ha rubato una nave Da l'Affra Ed è fuggito da prigione Una nave che noi abbiamo riparato Briggs È vero? Ma nonna Loro In verità Non siamo qui Per portare Briggs Ad l'Affra Allora Hai deciso di non lavorare Pansino Andare con l'Affra Bene Per me Quel pallone gonfiato Può risolvere I suoi problemi da solo Briggs La pirateria Perché? Nonna Ti prego Non farmi del male Nonna Non è come pensi Sono loro Briggs Basta Ora capisco tutto Le gemme Il cibo La tua assenza Cosa vuoi dire? Ora capisci cosa? Che dicono la verità E che tu Briggs Hai mentito tutto il tempo Anna Ti prego Crederai allora Non a tua nipote? Esatto Avrei dovuto saperlo Che non potevo crederti Ma scalzone L'ha fatto solo per Ciampa Ciao Ciao Sei qui Avevo sentito che Felix Era venuto a cercarti Ero preoccupata Cosa vuoi dire? Briggs l'ha fatto per Ciampa Tutto il cibo Bene rubati? No Abbiamo pagato per tutto Ciò che abbiamo riportato con noi Ma avete rubato una nave Per tornare Giusta? Nonna Abbiamo trovato questi gioielli Abbiamo pagato bene All'altra per la nave No? Sì Questa storia Ha il suono della verità Grazie Felix La tua onestà Ti fa onore Noi Siamo stati pirati Per un po' Fino alla scoperta del tesoro Se non fosse stato Per i nostri sforzi A Ciampa Si morirebbe di fame Questo non giustifica La pirateria Non è che lo facessimo Per soldi Era per salvare Ciampa Quei gioielli Che abbiamo trovato Valevano molto Vogliamo ripagare Ogni città Acqua abbiamo preso Non è vero? Certo Che ti prende? Sulla nave avevi detto Che avremmo ripagato Quelle città Ah già Hai ragione Dobbiamo farci perdonare Per ciò che abbiamo fatto Questa è la verità Questa è la verità Nonna Riuscirai a perdonare Il tuo unico nipote Ah va bene Sono troppo vecchio Per tenere il broncio Ma Felix? Che dici Felix? Puoi perdonare Il mio marito? Eh certo Concordo Felix Se a ogni città Se a ogni città Verrà restituito Un martorto Non c'è problema Lo senti? Anche loro ti perdonano Significa che puoi lasciare Eulo Senza paura Ma non so cosa dire Sembra un po' pallido Oh davvero? Hai il raffreddore Non avrai la febbre vero? Ma cosa stai dicendo? No giuro Sembra che bruci Meglio che ti sdrai Prima che peggiori Sì preoccupa per me Sbrigati vai a letto Così potrai riposare Forza Non vorrei mica attaccare Tutti il raffreddore Vero? Oh certo certo Come no? Ah dunque Cosa vi porta Ciampa? Voglio dire Da quel che ho capito Non siete qui per Briggs Ah Essere ancora giovani E sciocchi Se avrete mai il bisogno Di consultarvi con me Siete benvenuti Beh in realtà Io Già qualcosa posso farlo Vero nonna? Eh? Sembra un'arma È parte di un tridente Per ricomporlo Ne servono altri due Ma che sia davvero Il leggendario tridente Ancol? In questo stato Non mi servirà niente Lo conserverò io per voi Beh Tenga signora Sembrate incerti Non credete mica Che voglio imbrogliarvi No no Bene Non preoccupatevi Se vi portate Le altre due parti Sarò felice Di ricostruirlo Io per voi Ecco qua signora Ah Hai trovato la seconda parte Caro Ottimo La terro io Non vorrete mica Che si perda Ne manca solo una Che poi Tutta questa cosa È utile Perché tu almeno Ti liberi un po' di spazio Ben fatta Hai trovato tutte Tra le parti del tridente Ora potrò iniziare A riforgiare L'antico tridente Ancol Finalmente Lancieremo qui dentro Tutti e tra i pezzi Sì Lascia fare a me Cuore della terra Fiamme della forgia Datemi il potere E ora ci butta dentro Strano Non è successo niente Che succede Che succede È successo qualcosa È quello Il leggendario tridente Dopo tutti questi anni Il tridente è di nuovo completo Ma come fai a leggere così Comunque Il tridente è stato riparato Ora ti appartiene Felix Usalo bene Ok E come lo prendiamo Ah perfetto Meno male Ottiene il tridente Che tra l'altro È un'arma Sì Un'arma che ha un unico scopo Vuoi attivare lo strumento Va bene Resistenza all'acqua Ok in realtà non credo che sia utile per lui In teoria Resistenza all'acqua 118 Lei 87 Forse dovremmo darlo a lei Lei 106 Lui 134 Più i venti di prima Ok diamolo a lei Allora Nonna ho preso il tridente Grazie di tutto Il tridente sembra avere un potere straordinario Le leggende devono essere vere Non importa quale bestia incontrerai male Contro il tridente non c'è scampo Grazie nonna Fatto tutto ciò Credo che non ci sia più nulla da aspettare Ciao Eolo Babu babababubu Chissà che cosa Briggs Si sentiva così sana e felice Non ha febbre né tosse Ma dice che si sente ancora debole Oh una volta guarito Ripartirò a cercare gioielli Per scusarmi con madre Daila Briggs Per favore Non mentire a me Sono certo che ci siano ancora Molti gioielli nella caverna Se solo avessi potuto afferrarne altre Prima che la trappola si bloccasse Chissà poi di quale caverna parla Non c'è niente che non vada in Briggs Ma so che mi sta nascondendo qualcosa Uno degli uomini di papà Ha fatto scattare la trappola E sono dovuti fuggire Papà credo che dovessi dirlo a Felix Eh vabbè Non c'è più nulla Che ci fermerà ora Possiamo andare in direzione Dopo aver riposato Di Lemuria Grazie a tutti Grazie a tutti.